Odio tutti, odio qualsiasi persona del mondo. Sono tutti dei perfetti di Oto. Non ce la faccio più a stare con nessuno, ma soprattutto io odio i miei amici. Ma guardali lì, che sfigati! E io dovrei viaggiare con loro? Ma chi me lo fa fare? Guarda Lollo, il solito che spara cazzate. In una città così bella come Vienna, come posso affiancarmi a loro? Che vergogna! Cose più in particolare possibili. E adesso cosa stanno facendo? Si fanno delle foto, ma verranno tutte orribili. È una foto stupenda ragazzi! E la gente cosa penserà di me che vado in giro di fianco a loro? Mi sento uno stupido. Guarda Lipa, manco saprà dove si trova in questo momento. Che bella Vienna! Sono completamente d'accordo! C'è anche Steven! Non fa niente questo qua! Manco prende il biglietto della metro! Steven, vuoi che ti prendo il biglietto? Si! Ok! Mi sento solo in mezzo a degli idioti che camminano a vanvera. Non riesco neanche più ad ascoltarli. Dicono sempre robe a caso. E questa città grigia mi fa sentire ancora più solo. E sono costretto a sorridere per finta. Chissà cosa capiscono questi quattro scappati di casa di arte. Magari un po' di cultura potrebbe far bene ai loro piccoli cervelli. Questo quadro però è proprio una merda! Ma nonostante ciò Lollo si mette comunque a ridere come uno scemo. Penso sia uno dei quadri più belli. Sì! Voglio andarmene da qui! Da loro! Scappare via! Non si meritano niente! Non si meritano me! Non faccio parte del loro gruppo! Siamo! Tre! Due! Uno! Magic Team! Ragazzi comunque che buona questa cena! Mamma mia che cena orribile! Clemè vai che ti sentiamo eh! Cosa? Riesci a sentirmi? Eh sì! Tutti noi riusciamo a sentire ciò che pensi! Quindi abbiamo sentito tutti i tuoi insulti di questi due giorni! Quindi sentite tutto ciò che penso? Già! 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 Allora ragazzi mi scuso per tutto ciò che ho pensato! Però ho da dire una cosa! Sì! Coglioni! Sì! 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 Cosa? Succar! Che stupidino che il mio amico Goli! Sì! 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 Sì!